appena ho chiuso il video si è alzata chi fa a filmare 3 secondi che sei in piedi? che pensano tutti che non ti alzi? ecco, saluta i tuoi follower cccip 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 e poi ho detto che tu hai appunto in classe anche Mario Draghi e Montezemolo nella tua classe erano proprio o ne erano scuola